buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review la mia rubrica quotidiana in cui come sapete vi parlo degli album che più mi hanno colpito come sempre vi chiedo la gentilezza se vi piace il format ed iscrivervi al canale youtube e se va di diffonderlo presso gli amici che pensate possa piacere grazie grazie davvero oggi ho scelto per voi un album di un quartetto straordinario che si chiama silent fires il disco si chiama forest ed è dedicato all'esplorazione della spiritualità in tutte le sue forme i brani sono stati tutti scritti da alessandro sgobbio un bravissimo pianista e la cosa che mi ha intrigato del disco e la formazione perché vede lui a pianoforte appunto caroline wallace alla voce il holsen al tromba ed effetti e infine a con ass al violino quindi il disco prevede una mescolanza di distigli perché abbiamo un po di jazz un po di classica contemporanea un po di elettronica un misto di tutto senza soluzione di continuità quindi un progetto particolarmente originale ed evocativo che vi consiglio di ascoltare ciao